Montorio omaggia uno dei suoi più illustri concittadini, il regista cinematografico Tonino Valeri, intitolandogli il Cineteatro Comunale di Largo Ferrari. La cerimonia di intitolazione della struttura si terrà lunedì 20 maggio, giorno del compleanno del regista montoriese. Perché Montorio? Pensa proprio a Tonino Valeri. Perché è un pezzo storico di Montorio, un regista che ha fatto la storia del cinema nazionale e internazionale. Il Montorio non poteva che ricordarlo con un'opera che potesse ai posteri far ricordare questa figura, l'intitolazione del Cineteatro Comunale a Tonino Valeri. Lo abbiamo voluto perché è da alcuni anni che se ne parlava e quest'anno il delegato alla cultura Lorenzo Valeriani ha voluto riproporre questa idea che è stata sposata dal comune di Montorio e anche e soprattutto dal BIM, quindi ringraziamo anche il Presidente Gabriele Minosse che ha voluto darci la possibilità non solo di logistica ma anche finanziaria per far sì che questa intitolazione potesse veramente nascere e quindi definirsi sul territorio comunale. E voi l'avete decisa proprio per il giorno del compleanno di Tonino Valeri. Sì, questa è una data che tutti i montoriesi sono fieri perché quando c'è un, come si dice, Nemo, profeta in patria, questa volta riportiamo in patria qualcuno che ha dato lustro al comune di Montorio, lo ricordiamo lunedì 20 maggio dalle ore 18 con interventi istituzionali, alcune retroscena della vita del grande regista ma soprattutto anche con il mio film E Nessuno che penso che non tutti quanti conoscono, anche i più piccoli. L'intitolazione a Tonino Valeri del Cineteatro di Montorio è un ulteriore tributo alla lunga carriera del regista montoriese, ammirato e citato anche da Quentin Tarantino e già insignito di riconoscimenti da ogni parte del mondo.